Sta scurendo, tipo si vede che sta crescendo un pelo... E' tipo grigio, tipo certosino. Prima era roso e ora... Vittorio! Ma ha pure occhi azzurri? E' difficile, sai che lo vedo sempre neri perché sono sempre contro luci. Che c'è? Vittorio? Mettilo qua sopra che è così... Che ti viene la luce... Wow! Io sono un gigante! Azzurri c'era? Ancora, sì sì, no è che... Quest'età tutti hanno gli occhi azzurri, poi diventano... Poi scuriscono... Ma questo è sicuramente certosino, sembra come marino. Nooo, io penso tigrato. Guarda il viso come è bicolore. Vedi che cadi, Nanette. Ti vuoi tuffare? Lo guardavo, per dire ora mi tuffo. Ha mangiato sto nano? Sì. Che c'è? Sì, lui ora... Che sexy! Nano! Che cammina! Nano! Che cammina! Vieni, vieni Nano! Troppo sexy! Vieni qua! Nanetto! Vittorio! Caccialo, caccialo! Gabi, caccialo nella borsa! Vittorio! Che c'è? Che buona, ok? Che buona!